E' per questa Pasqua che io sono venuto al mondo. Ma Gesù, che era quello delle previsioni? In verità, vi dico che uno di voi sta per tradirmi. Quello che è... Sono forse io, signore, eh? Ramiro. Quello che devi fare, Giuda, falo presto. Conto Gesù si fa i conti dopo quando scendi dalla croce. Benedetto sia il Signore nostro Dio. Ecco, questo è il pane della vita. Prendete. Mangiatene tutti. Questo è il mio corpo. Bevete tutti. Questo è il mio sangue. Oh, Gesù! Vetti dietro! Violeta! Vabbiamo abbruscati! 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 Abruttati, abbruttati, 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 ora basta, è caduto e allora far ridere, qui ci si mette l'anima e se non vi piace potete pure andarvene, non abbiamo bisogno di gente come voi. Andate, andate, andate via, guarda, non è rotto, è solo uscito dall'asse, qui, ancora, vai, siediti, siediti, dai. Sei stupendo, sei un Cristo perfetto, sei povero, sei ricercato, tutti ritornano di te, ma sono grasso. Anche Cristo lo sarebbe oggi, sai. E ora mi lascio un nuovo comandamento. Non c'è amore più grande. Dare la vita per la salvezza di un amico. Padre, proteggi quelli che mi hai affidato attraverso di loro. Io sono la via, la verità, è la vita. Io vado a pregare. Venite con me.